Maltrattamenti e stalking, diversi gli episodi denunciati o colti in flagranza, che hanno portato ad una serie di provvedimenti tra il Vallo di Diano, il Cilento e gli Alburni. Uomini che non si rassegnano alla fine di una relazione, in altri casi si tratta di soggetti abituati ad usare violenza fisica e psicologica in famiglia. Nello specifico, a Teggiano, una donna rumena era perseguitata da un suo connazionale, residente a San Rufo. All'uomo, un 41enne pregiudicato, accusato anche di estorsione nei confronti della donna, è stata ora vietata la comunicazione e l'avvicinamento a lei e ai luoghi che le frequenta. Un 36enne pregiudicato di Polla, invece, è stato arrestato e si trova nel carcere di Ariano Irpino per maltrattamenti e lesioni nei confronti della madre. È stato colto in flagranza di reato. Un 85enne di Ottati è stato allontanato dalla casa familiare perché è responsabile di maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante della continuazione, in particolare maltrattava la moglie. Arresti nei giorni scorsi anche a Capaccio Pestum, i militari della stazione locale ne hanno eseguiti due. Le manette sono scattate per un 58enne finito ai domiciliari per avere l'uso e il divieto di avvicinamento alla moglie e un 35enne accusato di continui atti persecutori nei confronti di una donna di Capaccio, anche con plurime violazioni della restrizione del divieto di avvicinamento alla vittima. L'uomo si trova ora a Forni.